Il Bersì di aprile di vivacizzare proprio la ginnastica con l'introduzione di un jolly che raddoppia il punteggio e con l'accostamento dell'artistica alla ritmica. È un esperimento che dovrebbe ripetersi anche per quanto riguarda tappe di Grand Prix sulla base dell'atletica leggera ad esempio. Ma certamente dei correttivi sono stati apportati per l'età e tanti correttivi ancora bisognerà apportare per le regolamentazioni tecniche. Ma soprattutto dove bisognerà lavorare è sulle formule di gara.